È stato un bellissimo progetto, richiesto direttamente dai punti prelievo di tutta la Valdichiana, andavano rinnovate tutte le poltrone. Ancora una donazione da parte del Calcit Valdichiana, questa volta alla Casa della Salute di Lucignano, una nuova poltrona per il punto prelievi. Sarà molto utile perché sicuramente è fatto tutto più in sicurezza ed in modo più confortevole per gli utenti. Questo è lo scopo e ringrazio davvero il Calcit per la straordinaria opera che fanno sui territori, per le donazioni, ma proprio per tutto il loro operato. Insieme a tutta la rete del volontariato, io credo che sono un elemento fondamentale per la nostra sanità nel territorio. È stato per noi un grosso impegno perché, capite, ogni donazione significa prima trovare delle risorse economiche e quindi organizzare tante manifestazioni. Però ce l'abbiamo fatta anche perché la Valdichiana, quando si tratta di volontariato e donazioni, è sempre splendida. Quindi è molto predisposta verso le associazioni volontariato. Il volontariato si integra molto con i servizi. Al di là di quello che sta accadendo oggi, noi vediamo che dove c'è veramente volontariato c'è integrazione. Perché l'obiettivo è quello di aiutare il cittadino per agevolare anche i stessi servizi. Questo ci permette di lavorare veramente in rete. Noi abbiamo donato le poltrone in quattro punti prelievo e poi doneremo le carrozzine all'RSA di Castiglione a Serristori, perché lì le poltrone già le avevano, quindi per un costo complessivo all'incirca di 8-9 mila euro circa.